C'è una scena del corto dove sono stati applicati effetti. Già la primissima scena, a parte l'orologio, l'ufficio. In realtà avevamo soltanto un tavolo con un computer, un telefono. Abbiamo girato due scene, le abbiamo messe assieme. I occhi bianchi tra l'altro sono i miei, ho fatto prendere una parte bianca con i miei occhi. La scena dello specchio, pure qua, è stata fatta girando due volte. Le scene di Martina sono state girate in verticale perché lo spazio era poco. Praticamente le stavano nel garage con un tello nero sullo sfondo. Non c'era molto spazio, infatti hanno girato prima uno e poi l'altro. Si sono accordati andando a tempo con la musica. La mano di Martina aveva le luci laterali. Quindi la mano sembrava quasi messesse in ombra. Pure il stesso del monitor del computer. Ci aveva la marca, tutti questi piccoli dettagli. Magari una presa sullo sfondo che è stata tolta. Queste cose qua. Abbiamo dovuto effettare quasi tutto. Persino la mano abbiamo dovuto stabilizzarla perché non avevamo come riprendere dall'alto. Siamo stati e Giovanni a mantenere la videocamera in perfetto equilibrio. Va bene, va bene, va bene. Parti dall'alto. A parte che lo contrastiamo maledettamente. Sì, infatti, vai, ripartiti da meca. Sì, sono tranquillo, vai, vai. Vai tranquillo proprio. Il mio personaggio ti ne ha detto comunque. Uno? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah